Buongiorno, mi chiamo Luisa Di Stefano e insegno francese alla Scuola Media Spinelli di Scandicci. Lo scorso ottobre ho fatto la mia esperienza Erasmus a Saint-Lys, presso Parigi, con la formula del job shadowing, osservando un liceo e una scuola media. Sintetizzo la mia esperienza in tre parole chiave. La prima è confronto e aggiungerei fra culture, perché è ciò che facciamo di solito tutti quando conosciamo persone nuove che hanno un modo di vivere diverso dal nostro e quindi ci confrontiamo. La seconda è interscambio, perché ogni volta che parlavano i colleghi francesi c'era un continuo scambio di informazioni relative alle nostre esperienze di lavoro, ma anche alla metodologia di insegnamento. La terza parola è relazioni, perché questa esperienza mi ha consentito di creare relazioni sia umane che professionali. Col collega di italiano, per esempio, ho portato avanti un progetto di corrispondenza epistolare vecchio stile, con le lettere scritte a mano dai ragazzi. Quindi in definitiva posso dire che l'esperienza Erasmus è stata completa sia da un punto di vista umano che professionale.